Il cinema ha sempre vissuto come una cosa da fare con mia mamma. Qualcosa di assolutamente indispensabile. La pace e la bellezza. Un finto impero, diciamo. La passione. Ti fa star bene, si fa provare emozioni forti. Che strane di tal mondo. Un'occasione irripetibile. E' molto divertente. Salva gente. La felicità non è reale se non è condivisa. E comunque va da domani. Abbiamo visto oggi. E se in futuro ci rincontreremo, sarò felice. Mi chiamo Django. La D è muta. Qual è il suo stato naturale? Qual è lo stato di natura al quale è stato strappato? Mi si nota di più se vengo e sto in disparte o se non vengo per niente. e si non vengo per niente. E se vincere. Quindi, ma è il suo stato di più se vincere. E 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 se vincere. Grazie a tutti.